Vi siete mai chiesti come ho fatto a viaggiare nel tempo? Oggi vi svelerò il mio grande segreto! E dai, e dai, e dai! Benvenuti in questo nuovo video dal vostro Pippo Calippo! Il burino più cringe del web! Se ancora non avete visto la mia vecchia webserie Pippo Back to the Future e ve la linko qua, nella playlist, qua in alto alla vostra destra sono sette puntate di 3-4 minuti ciascuna L'ho girata più di un anno fa col telefonino in pieno lockdown Quindi non guardatevi i fetti! Ho viaggiato indietro nel tempo per avvisare il mondo dell'arrivo della pandemia Ma come ho fatto? Ebbene, grazie a lui! Alberto Giannone! Il più curioso youtuber di YouTube! E allora vi faccio vedere una breve chiacchierata che io e Alberto ci abbiamo avuto sulla possibilità di viaggiare indietro nel tempo E attraverso i suoi consigli spiegati come sempre in modo semplice, chiaro, leggero l'ho potuto fare Si può fare! Ma prima iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e attivate la campanellina delle notifiche Ciao ciao Alberto! Come stai? Ciao Pippo! Grandissimo! Io bene e tu? Tutto bene, tutto bene! Senti, ti contattavo per una questione da poco conto praticamente Ti volevo chiedere una cosa perché io ho intenzione di viaggiare indietro nel tempo per avvisare il mondo dell'arrivo della pandemia così magari riesco pure a sistemare le cose e questo giro non ci facciamo trovare impreparati E allora ti volevo chiedere a te in concreto come si fa? Come posso viaggiare indietro nel tempo? Ok ok, l'idea di salvare il mondo dalla pandemia non è per niente male C'è un piccolo problema però che a livello fisico è veramente un casino tornare indietro nel tempo però ho un'idea potresti viaggiare nel futuro arrivare che ne so fra 2000 anni dove le tecnologie saranno molto più avanzate e qualcuno magari si sarà inventato una macchina del tempo per tornare indietro nel tempo e quindi salvare il mondo dalla pandemia Ma che ne dici? Questa cosa è geniale, non ci avevo mai pensato quindi io vado avanti nel futuro poi mi costruisco una macchina del tempo ipertecnologica e poi ritorno indietro quanto mi pare Esatto, esatto, questa è l'idea Allora diciamo che ci sono tre tecniche per viaggiare nel tempo in maniera relativamente facile La prima è la più semplice di tutte Stai fermo e vedrai che i secondi vanno avanti nel tempo Oddio, questa cosa non ci avevo mai pensato effettivamente È incredibile, ma è cambiato proprio la percezione delle cose Effettivamente stiamo viaggiando avanti nel tempo È vero Esattamente Il problema però è che stiamo viaggiando tutti alla stessa velocità avanti nel tempo Invece tu vuoi andare più veloce rispetto agli altri Ho capito Quindi potresti usare la teoria della relatività di Einstein Anzi, la teoria della relatività ristretta di Einstein E qui la teoria ci dice che un corpo se va molto vicino alla velocità della luce Per lui rispetto agli altri il tempo rallenta E quindi stai viaggiando letteralmente nel futuro Ho capito Vabbè, quindi praticamente è come quando anche viaggi nell'aereo In aereo, no? Sì, è vero, succede anche quando viaggi in aereo O anche quando corri o vai in macchina Il problema è che sono velocità troppo lente per sentirne l'effetto Vai avanti nel futuro di qualche miliardesimo di secondo Ma se vuoi andare avanti di anni Beh, devi andare proprio vicino alla velocità della luce Quasi a 300.000 km al secondo Mamma mia, tanto 300.000, oh Io non lo so Volevo andare avanti nel tempo più o meno di 2.000 anni Eh, penso che sia sufficiente 2.000 anni avanti Poi non so se il mondo ancora ci sarà Però una cosa del genere Che ne pensi? Quanto, quanto, quanto devo andare veloce? Sì, è bella alta come velocità Però diciamo che è più facile costruire una navicella che vada a quella velocità Piuttosto che creare una macchina nel tempo che vada indietro nel tempo Ho capito Comunque, facendo rapidi calcoli Se vuoi andare avanti di 2.000 anni facendo un viaggio nello spazio per circa una settimana soltanto Beh, dovresti andare alla velocità molto molto simile a quella della luce Quindi 99,999999999999% della velocità della luce Ammazza, oh quanti 9 Vabbè, ho capito Quindi, vabbè, praticamente allora io costruisco sta navicella spaziale super potente Vado a sta velocità E quindi praticamente mi faccio un giro nell'universo per una settimana E quando torno praticamente sto 2.000 anni avanti Giusto? Esattamente Tu sarai invecchiato di una sola settimana Mentre la Terra e tutta l'umanità di circa 2.000 anni Ho capito E invece l'altra tecnica come funziona? L'altra tecnica invece si basa sulla teoria della relatività generale La quale ci dice che lo spazio-tempo si deforma vicino a delle masse molto molto importanti Quindi, se tu ad esempio vai vicino al Sole Il tempo per te rallenta leggermente di più rispetto a noi della Terra Perché la massa del Sole genera una gravità così alta rispetto alla Terra Che fa rallentare un po' il tempo Ma se vuoi andare veramente nel futuro e quindi avere il tempo tanto 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 più rallentato Beh, ti consiglio di andare vicino ad un buco nero Un buco nero? Beh, scusa Un buco nero si dice che poi quando finisci in un buco nero è finita Perché praticamente la succhia che c'è ritorno più indietro È macello Hai ragione Hai ragione Hai ragione Infatti non ti consiglio di andare dentro a un buco nero Ma appena fuori Infatti diciamo che c'è un limite Si chiama orizzonte degli eventi Se tu stai fuori da questo orizzonte degli eventi Beh, i tuoi motori sono abbastanza potenti Per scappare dalla gravità del buco nero Allora puoi appunto farcela Se invece superi anche di poco l'orizzonte degli eventi Beh, non farai mai più ritorno E il buco nero Ti consiglio di andare vicino a un buco nero Perché di solito hanno masse veramente enormi E quindi la gravità è così forte Che il tempo rallenta di tantissimo Vicino a questo limite Vabbè, come quel film là Come si chiama? Che l'ho visto Come Interstellar Come Interstellar Interstellar Ho capito Allora poi così mi rivede il film Così mi vi ho pure qualche appunto Va bene Allora io andando mi segno nella mia to-do list Devo fare sta navicella spaziale Super potentissima Come lo segno Confermo, confermo Ma la cosa bella è che queste cose sono Sono provate scientificamente Non è fantascienza È pura scienza Sì, diciamo che l'unico problema È costruire questa bella navicella Super potente Ok Quindi ti consiglio di avvitare bene le viti Perché le eccitazioni Saranno molto importanti Eh sì Boh, che ci penso Però non c'ho manco le vite Le devo pure andare a comprare Non c'ho manco le basi Vabbè, dopo passo Passo dal cinese E le vado Le vado a comprare queste viti Va bene Allora grazie Grazie Alberto Poi, tra l'altro Devo pure stare attendo A cambiare gli eventi Perché poi Basta che cambia una piccola cosa Succede un macello Giusto? Soprattutto se vai nel passato Allora sì Possono succedere un sacco di paradossi Ad esempio Se per sbaglio Fai un incidente Con tuo nonno E lui muore Cosa accadrà a te Scomparirai all'istante Oppure no Si aprirà un universo Parallelo Dove ci sarai tu Ma non ci saranno più I tuoi genitori O non si sa cosa accadrà Insomma Dovrai stare molto Molto attento Sì Che poi tra l'altro Posso pure incontrare Me stesso Eh Io non lo stesso Può capitare Può capitare Ti consiglio Di non ucciderlo Però Ti consiglio Di starci alla larga Dal tuo te stesso Del passato Eh sì Spero di non incontrarmi Eh anche perché già Da solo così Già ne ho abbastanza Va bene Allora grazie Grazie Alberto Grazie Ti faccio sapere Ti faccio sapere Ciao Dai Perfetto Ciao E soprattutto Buon viaggio Grazie Ciao 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 Questo è quanto Poi come ho fatto Proprio nel concreto Magari ve lo spiego Un'altra volta Dai Vi invito a seguire Il canale di Alberto Divulgamente Un canale ricco Di curiosità Esperimenti Scienza Illusioni Vi lascio il link In descrizione Se vi è piaciuto Questo video Lasciate un like Un commento E se ancora Non siete iscritti Al canale Iscrivetevi E attivate la campanellina Delle notifiche Per non perdervi I prossimi video VAMBULÈ Ciao Ciao